Simone vieni qua! Vieni, vieni, grazie! Allora, al tre mi dovreste fare tutti i quarti una cortesia dato che purtroppo sono stato lasciato dalla fidanzata per circostanze che non vi sto a dire ma sono tutte colpe mie al tre dovreste fare uno, due, tre Michela Torna siete con me? Sareste gentili? Fate tutti i quarti, quando vi faccio con me? Uno, due, tre Michela Torna Uno, due, tre! Michela Torna! Grazie Stato l'incorso Sì Erano tre anni che stavano insieme e l'ha lasciata per me, non scherzo San Michele proteggi di te, vada Rocco Va bene, andiamo a produrre anche Luciano! Chi? Luciano chi? Luciano Lecco non lo so se c'è Ah, se ne è andato già? Eh, non lo so, non lo vedo Se ne è andato via così senza un vero percorso Cioè, allora lo salutiamo loro Facciamo un applauso allo stesso, a Luciano Ciao Luciano! Io presento te, ti presenti me e ce ne abbiamo con me Vabbè, chiamiamo anche Francesca Ah, Francesca che li ha assistiti Un bel applauso a Francesca, la nostra bella presentazione inizia Grazie Grazie Grazie, grazie a voi Grazie, grazie a vice sindaco Grazie Potresti essere un mio allievo però, eh La stanza c'è, vada Sì, vado sulla viaggista Sì, non sulla puntina, eh È qui vicino È più vicino, sì Allora, prima di lasciarvi io vorrei salutare, insomma, a modo mio Visto che ho sempre solo parlato di donne Vorrei salutare anche gli uomini Uomini Questa sera, quando tornate a casa Salutatevi i vostri figli Ricordatevi sempre Che io potrei essere il padre Grazie a tutti Grazie a te Grazie a te Grazie 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 Grazie